allora eccoci qua ancora procediamo all'interno di questa forra siamo proprio tra queste due pareti di roccia tufacea e stiamo procedendo verso la parte un pochino più stretta della forra e c'è un microclima particolare qua essendo che siamo più bassi del livello superficie però è bellissimo ci sono questi alberi che fanno praticamente quasi da tetto a questa parte della forra fantastico sono ancora i doi grazie mille perché proseguimo? perché proseguimo? sì adesso è un recetto eh oh grazie mille wow grazie mille grazie mille Grazie a tutti.